no ti prego basta scusate amici miei scusate amici della pancia del tifoso dei senza giacca sto piangendo sto piangendo sono attimi di commozione non è possibile non posso vedere sempre giampiero piangere gasperini ti prego no non lo fare non lo fare mai più guarda ogni volta che ti vedo piangere e ultimamente troppo spesso troppo spesso piangi sempre giampiero basta ti prego hai costruito un giocattolo fantastico scusate ma mi casca il turbante hai costruito un giocattolo meraviglioso che dura da cinque anni vai sempre in champions fai di tutto di più non riesci a vincere un titolo e su questo oramai non c'è nulla da fare però basta non piangere sempre una squadra meravigliosa giocate benissimo siete fantastici ma rovini sempre tutto costi piangere basta basta e non lo dico più ve lo prometto oggi non posso amici miei della pancia del tifoso dei senza giacca commentare la partita a causa di forza maggiore lavorativa non ho visto nulla ma ho goduto quando è arrivata la app nel telefono il 2 a 3 di milenkovic ho visto dopo proteste totali furibonde dei bergamaschi per un fuorigioco che secondo me da solito sportivo che sono è da segnalare perché quando uno parte in fuorigioco è in fuorigioco comunque quando capita me lo tengo visto che raramente prontano degli episodi arbitrali l'ennesimo scoglio importantissimo dopo napoli vinciamo a bergamo ed ecco che arrivano loro il 2 marzo il 20 aprile eccoci arriva il serbo signori miei gli ostacoli insormontabili sono arrivati juventus e juventus permettendo che sarà molto 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 dura lo dico fin da adesso ma non lo dico per coprire le mie paure lo dico perché sono uno squadrone clamoroso e batterli in due partite già in partita secca sarebbe stata dura in due partite sarà veramente difficilissimo se poi passi c'è comunque inter e milan al massimo della forma vabbè la finale sarà a maggio questo ovviamente potranno arrivare ogni squadra in un modo diverso da come sono adesso ma comunque sarà veramente veramente difficile ma abbiamo fatto il massimo e dire che non abbiamo meritato la semifinale è una cosa clamorosamente falsa perché vincere a napoli a bergamo è una cosa veramente difficile da conquistare questa vittoria volevo menzionare amici miei se sono all'ascolto ovviamente quei tifosotti bianconeri che mi hanno citato nel video su youtube della pancia del tifoso nel caso del serbo alla juventus quando voi parlate del provincialismo le squadre come la fiorentina chi sono i vostri acerrimi rivali che non esistono vi ricordo che tifare per le vostre squadre che tutto possono tranne le altre è molto più semplice e vi ricordo che quando vincete scudetti coppe italia e cose varie contro squadre del calibro della viola del napoli della roma della lazio e chiunque metta chiunque a dir si voglia è come se andate a pagamento da una donna e poi vi esaltate con i vostri amici di averla conquistata quindi sappiate che i tifosi veri esistono ma voi non meritate neanche le mie risposte su youtube detto questo un saluto a tutti quanti un abbraccio ci vediamo presto lunedì sera dopo spezia fiorentina un abbraccio e forza viola signori